ciao amici buongiorno e benvenuti a questa nuova diretta sulla mia rubrica dei vini accessibile di qualità ossia la mia rubrica settimanale relativa ai vini da supermercato o meglio dove andiamo alla scoperta dei vini dal supermercato a prezzi accessibili e di buona qualità rubrica che potete seguire settimanalmente sulle mie pagine facebook fabrizio de simone o instagram fabrizio underscore de simone sul sito internet www.fabrizio de simone.it e nella quale se volete se avete il piacere di degustare con me i vini che reperisco potete farlo in diretta insomma in contemporanea con me oppure in differita degustandoli prima segnandovi le vostre sensazioni e poi confrontandoli con le mie oppure direttamente uno secondo momento tanto i video rimangono poi disponibili sulle mie pagine basta che mi scriviate sui miei profili oppure una mail all'indirizzo info chiocciola fabrizio de simone punti e sarò lieto di darvi tutte le indicazioni veniamo il vino di oggi oggi andiamo in calabria vini calabresi conosciuti ma in realtà non se ne degustano così tanto almeno nella mia esperienza non ne trovo troppi da degustare siamo a cirò quindi in provincia di crotone cirò doc è la denominazione più prodotta in calabria in questo caso è un rosso classico quindi relativa la produzione relative comune di cirò e cirò marina con dal produttore caparra e siciliani che anche un bel sito che cosa possiamo dire allora vino prodotto con gaglioppo in purezza gaglioppo l'uva più rappresentativa della calabria la più prodotta date inizialmente vini abbastanza strutturati con alti livelli di tannino alto livello di acidità buon alcol quindi mi aspetto una bella struttura lo andremo a scoprire fra poco nel calice quindi gaglioppo in purezza c'è una discordanza tra quanto riportato sul retro etichetta molto dettagliato e quanto riportato sul sito sul retro etichetta viene indicato una maturazione di un anno solo in acciaio sul sito riportato un anno di maturazione diviso tra acciaio e legno vedremo dopo di scontro in nel calice 12 gradi e mezzo di alcol vendemmia 2019 vorrei fare menzione alla vendemmia 2018 che ha avuto dei riconoscimenti molto belli da parte della guida veronelli vino reperito all'unes supermercato 2 della catena della catena unes al prezzo di 3 euro 85 centesimi come al solito questa è la prima volta che io lo degusto lo degusto in diretta direttamente con voi oplala il tappo che vola via col logo questa la mia pubblicità occulta dove vai se qua fermo fermo no niente si muove oggi oggi sono in pendenza ok poggiamolo qui alla tastiera così non va via apriamo la bottiglia e era da provare questa è la prima degustazione di un vino calabrese nella mia rubrica quindi sono contento e dai ci tengo ecco bene la capsula è venuta via molto facilmente ora vado all'apertura del tappo mi sembra tappo in sughero subito oplala tappo piuttosto corto tappo molto corto infatti l'ho anche perforato in sughero e non presente rifetti perfetto allora andiamo adesso a versarci un pochino per avvinare il calice a bel colore molto scarico già da così rubino scarico piuttosto brillante quindi probabilmente probabilmente in effetti non ha fatto legno ok pulito esente da difetti eccolo qui allora quindi andiamo alla nostra degustazione coloro qui colore quindi rosso rubino trasparente piuttosto scarico con unghia e riflessi un pochino granata in questo momento è anche vero che non ho una luce perfetta ma questo è quello che che mi sembra al naso non ha una particolare potenza ma una buona eleganza piacevole fruttato un frutto rosso piuttosto succoso mi porta sull'uva molto vinoso mi porta anche su frutti di bosco piccoli frutti di bosco frutti neri c'è una buona impronta minerale e una discreta componente eterea ora scuotterlo un attimo quella rotazione percepisco un passaggio in legno quindi probabilmente si l'ha fatto sento un po di legno qualcosa di un po più dolce mi porta un po di vaniglia mi porta un po di toga di legno speziato pepe una leggera sensazione balsamica un bel naso insomma non è particolarmente complesso ma è piacevole elegante confermo la la notte di eleganza vado in bocca ingresso a un buon corpo piacevole non è molto molto caldo la gradazione alcolica e ben integrata oddio si sente adesso inizia a farsi sentire ma non è comunque invadente no no è abbastanza bilanciata una buona morbidezza residuo zuccherino assente è croccante ha un'acidità molto croccante viva la componente principale appena è entrato in bocca si percepisce immediatamente l'acidità poi arriva l'alcol tannino presente ma in verità non è troppo presente cioè un pochino timido ma è comunque sovrastato da dall'acidità e poi dall'alcol la bocca inizia ad asciugarsi ma penso che sia dovuto prevalentemente all'alcol la bocca è piuttosto pulita dalla trama tannica acidità comunque prevalente quindi direi che è sbilanciato su questa acidità fresca e piacevole il retrofattiva anche qua non è particolarmente intenso ma ha una buona eleganza come sapori una nota anche qui fruttata un pochino meno maturo un pochino meno succosa c'è l'avena balsamica c'è la componente speziata anche in questo caso precipisco un richiamo del legno finale discretamente persistente si si ha una buona persistenza anzi mi sembra tutto sommato pulito forse appena appena marogno lo giusto sul finire in ogni caso per niente invadente e per niente aggressivo bellino bellino si fa bere senza problema alcuno anzi mi voglio a bertelo in un bel passo 12 gradi e mezzo nel volume in alcol secondo me più spostato verso il 13 poi arrotondato per difetto ma non è invadente piacevole sì sì una buona bevuta temperatura di servizio che consiglio in questo caso 16 gradi insomma 16 17 gradi 3 15 17 via non 18 non è così strutturato ma neanche troppo in basso una cucina di tutti i giorni insomma un po tutto passo lo vedrei bene lo vedrei bene su sulla passa vedrei bene su su un secondo a base di carne per esempio una coppa di maiale un po grassa con questa acidità che ci sgrassa il pollo con la pelle magari anche al forno oppure alla pollo arrosto ecco patate patate al forno un po un te lo vedrei anche bene magari con dei formaggi non troppo stagionati pasta dura o semi dura ecco forse meglio e calice di servizio che consiglio è un calice da rosso di media struttura rosso giovane bene una bella degustazione in effetti non sapevo cosa aspettarmi ma mi è piaciuto quindi sono sono contentissimo e ok per questo quindi è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e la partecipazione ricordo se volete partecipare come la degustazione dei vini dal supermercato oppure anche la degustazione nella cieca che